Una complessa operazione in materia di contrasto della criminalità economica effettuata congiuntamente dalla Compagnia di Vasto e dal gruppo di investigazione e criminalità organizzata del nucleo dell'Aquila ha portato alla segnalazione all'autorità giudiziaria di sette soggetti nonché al sequestro di relativi beni immobili per un valore superiore ai 2 milioni di euro. L'indagine iniziata nell'anno 2013 coordinata dall'allora procuratore capo della Repubblica di Vasto, dottor Francesco Prete, ha consentito di accertare un rilevante patrimonio frutto di proventi illeciti. L'attività svolta dai militari operanti tramite un approfondito screening del territorio di Vasto ha consentito di individuare alcuni soggetti caratterizzati da forti vincoli di affiliazione grazie anche allo stretto vincolo parentale dediti in via continuativa e stabile alla commissione di reati in settori quali lo spaccio di sostanze stupefacenti, l'usura e le estorsioni. La predetta attività è espletata anche attraverso l'analisi di tutte le movimentazioni bancarie effettuate sui conti correnti intestati ai soggetti interessati con preventivo concorde e riscontro da parte dell'autorità giudiziaria locale mediante l'apporto investigativo del GICO veniva compendiata ed ulteriormente analizzata anche attraverso interrogazioni alle banche dati in uso al corpo al fine di pervenire ad un'esaustiva fattuale ricostruzione patrimoniale dei soggetti di interesse. Tale attività ha consentito di mappare gli assetti familiari dei soggetti ritenuti pericolosi nonché di accertare il patrimonio riconducibile rispettivi nuclei familiari con il risultato ultimo di far emergere l'esistenza di significative sproporzioni reddituali patrimoniali idonee a dimostrare la provenienza non lecita delle fonti di sostentamento. L'autorità giudiziaria competente ha quindi emesso un decreto di sequestro dei beni nei confronti di sette indiziati. Il bilancio parla di due terreni e tre fabbricati tra cui una villa nella periferia del vastese per un valore di mercato superiore ai 2 milioni di euro.